Peroni ripieni. Eh, non lo so. Intanto devo... Mi faccio ricordare che devo caricare l'altra. Vedi? No, non l'hai cambiata la live. Devo farlo poi. Peroni ripieni. Allora. La faccio io pe... Con due pipe e peroni. No, peperoni o una pi? No, peperoni o una piper. Sconfiggiamo il caos. L'ho caricato. Salvo. Guarda che devo caricare e poi... Come ho battuto il caos. Ah, questa, quella di ieri. Ieri sera. Tutututututututututututututututututu Cillairee? se la sto caricando. Si? Così cambiamo. apri quattro ceste con un click apri quattro ceste con un click dalla distanza questa farm e sto smettendo di fare ma in realtà quanti south hand abbiamo a voglia ancora aspetta un atto devo fare una cospera 1826 dell'acqua perché qua c'è dell'acqua mi devo dire di buttarlo ormai lascia vabbè sì abbiamo così veniva un po interiore lo sta buttando mi trighiara un po vedere tutta questa terra sopra è vero ma siamo satori di mob essence per un tank più grano perché allora il fluido è solo essere strato ah in realtà ne abbiamo di fluido ce ne abbiamo 128.000 su 512 direi che ne abbiamo di liquido voglio di nuovo facciamo scoppiare le singularity prego serve una leva la mini tenete lì che debba essere nell'applet una leva no sì sì invece l'appletta l'appletta è sempre sul comodino assoluto ho dovuto andare in bagno di flare allora le singularity sono qui posso mettere tutte prego a lei l'onore di casa dici che le fa entrare no non ne ha fatto in mezzo appunto però questo è clay il fatto che manca la l'ender dust in teoria manca l'ender dust singolarity non si fanno solo con la singularity vero con l'ender dust me lo sono di indicato scusa prendilo ce l'abbiamo è una cazzata del dust in teoria devo preferizzare una no ok se uno hanno un ender pair danno quindi si per te le segue no end 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 dust ne devo fare due quindi dici che le dobbiamo fare una alla volta no devi dico che ne basta una va bene ma vuoi che ti dica mi è scomparso lancia lancia fiamme ce l'ho sempre avuto nella saccoccia e rimane per sempre lì allora serve un'altra mini tnt ecco poi cos'era mini è sopra no è tiny scusami ecco fatta ecco ecco sono eh ci sono questo qua illumina tra l'altro perché vabbè l'ho trovato quindi vaffa frega vabbè l'ho trovato uno quindi vaffa frega eccoli qui ecco la e le mettiamo qua dentro dovevo fare 8 quantum ring e un quando un link serve la mia bacchetta del della luce una bacchetta elettricista è che qui manca della luce ecco perfetto 8 energy cell 8 dense cable 8 engineering processor e 16 logic processor ti sedi questo qua di qui e fai pa 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 fa come godi ehm non ho capito 25 basta fare 8 engineering process cosa stai facendo tu no si dei due quale lm quantum link chamber ok allora faccio il quantum chamber si 1800 diamanti i don't like it se ne facessi 32 di engineering process ma li puoi fare anche tutti per quanto mi riguarda ma faccio 32 devo farlo a mano non c'era una cesta fatto cosa devo metterli a mano in questo no c'è l'accesso qua sotto mettilo qua sotto è un inter extractor ma non prende solo da sopra questo no come no stai rimanendo 28 perché gli hai messo prima questo guarda qua ehm devi mettere come primo il diamante e lui prende ed esce 64 allora puttana questo fanno i 64 che se ne frega anche se vi ricordo che ne avevamo un botto di questi diamanti ne avevamo fatti veramente tanti di questo per esempio è uno in più di questo è abbastanza non c'è abbastanza silicone 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 è 71 eccomi serve da fare il silicone si infatti ne ho messi 64 c'era un metodo era questo? si guarda quanto ne fa? guarda quanto ne fa? e 8 e il buttone dell'app ma le energy cell come si fanno? ah così è posto e si fanno energy le regione ho fatte devo fare un'altra 7 ma con 7 flux dust non faccio una fava se devi fare per me le ho 28 di quei i pollici più di scendere che pollici più di scendere? le ora posso fare altre 7 energy cell ce la fa l'acqua non ce la fa l'acqua non ce la fa l'acqua ce la fa mancano dei dance cable una rosa una rosa di dance cable una rosa di dance cable un asso fuck fuck devo fare dei cavi dell'applico eh eh zero eh eh ehm come si fanno gli M e Gable P P P col Quartz Fiber il Flux Crystal eh c'avevo il Quartz Fiber pare un paio tifo 27 32 non è 32 lasciamo altri that's more devo coprirli con la lana qui ti voglio non ne abbiamo lana tieni ne abbiamo 12 di lana allora devo farne quattro in giusto non sto devo farne vabbè devo farne di più tutto perché è uscito il dance cover meglio eh però anche gli altri quindi mi serve altra lana nostre aspetta ci sono però sono viola gli darò fastidio no non credo il gioco non li accetta no così no gli da fastidio invece lo vuole da grigio ah non l'accettava già così che era nell'app credo tu fai tutti praticamente quello che serve è più lana mio signore eh te lo sto facendo se mi dai un attimo sto facendo una farm di cotone per fare la lana non è lenta la farm di cotone scusa la farm di cotone sì no mi metto il sink con lo spridler non dovrebbe essere lento perché quante volte usiamo la lana guarda mentre cerco del punto ok corre fa scendere un po' isola di merda esatto com'è che si chiamava quello la per sprinkler però abbiamo già in teoria quello dorato che spruzza e adesso ecco l'ho trovato subito devo trovarmi una una anche posso creare l'ender chest per il momento però posso prendere il bone meal non è che mangereste un po' d'erba pecore non ci stanno pensando nemmeno mangiare su un po' d'erba isgraziato gli autonus finalmente ritornano guarda come salta arcatraia subito i pecore mangiate guarda anche il grano questo no invece si le noci di pagadamia si sono pieni anche questi no i vacuum hopper non sono ancora pieni però mancherebbe poco i vacuum hopper ce li ho io ce li ho posso farli collegare a quelli non mi interessa farli collegare a quelli cavalli gusti ori no mucche di angus tipologia di mucca mucca le mucca normale mucche normale le piccure le piccure le piccure le piccure highland cow no lo sei massella come sgambetta i porci l'uomo si iran le piccure le piccure NEEE MEGA NEEE E' piccura Viglio so much TRE Dobbbero bastare 23 più 8 Torniamo Facciamo questo Facciamo questo Torniamo 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 Abbiamo fatto 4 del poveri Schrivo 27 però non va bene Ecco Spero che va bene T09 Povero ne ho otto L'ho fatto i nove 53 C'è carenza Eh Dove raccogliere Quella mi va bene No Perché ho preso Quello della natura che fa schifo Perché non ci sdoppia 8 No in deserto Perché sono andato in deserto se ho cliccato qui Ok io ho otto quantum ring Li ho fatti In teoria se li metto così Me da altri Per una volta Vabbè essere più utile Ok 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 Metti che non un botto Queste lusci volanti Però va bene O quello o quello riesci a crearmi una cesta per il coso come si chiama per l'athlet si così metto il cotone che va di attento nell'athlet prima di entrare mettete le pattine dai portami anche i lead cable voi dei lead cable lead stone cable devo farla gialla 1 e 3 ecco qua dove la stai facendo? arrivo io stavi già dormendo ho un lag è più o meno vicino al deserto dove la sto facendo? è dove tu non hai visto che c'è tutto il muesli che sta facendo un po' che non tocco i blades sapevo che l'avevo messo al contrario ci arrivano? ci vieno qui? ha voglia per la prima famiglia settore il raggio perfetto è cercato questa zona anche questa zona qui no? ha voglia se c'è anche la zona qui cacchio non ho angel block è storto allora devo comunque tornare a prendere gli angel block mentre aspetto faccio altre cose devo sempre portare uno no ho premuto una hack che fastidio e me papi questo è l'autocrafting che ci puoi fare adesso infatti questa dovrebbe essere la live dell'autocrafting come l'ho messo io qua? oh cacchio non devo prendere le prugne un crafting terminal ma che cosa? al terzo ehm part part termo faccio scrivere? no non è monitor terminal giustamente terminal per fortuna non gli interessa per me si è shippato e verrà rimesso per me non gli interessa a me si un altro dove l'ha messo esattamente 3 che l'ho messo via a destra una graffa tinga ce l'è ciulato bastardo un po' diverso c'è un botto questo sto smeltando quelli che ce ne fossero di meno ti rimetto dobbiamo fare un mega mashup tutti questi legno eh è a posto ho tolto un botto di legno inutile un ingerire un ingerire un ingerire ma quanto ce l'ho messo il volo speed scusami un attimo vabbè poi la blank pattern a 141 no mettimelo a 100 sennò muoio dentro proprio vado con certo scarso una ruota eh il f*** non l'ho f*** ah questo accadevo solo hey hey ok perfetto questo 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 il 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 metto di nuovo dentro sta poi dove sta c'è il coso portatelo a posto io eccomi qui dicevi ti ho dato questo io a te no sto aspettando quello tieni questi su pensavo non l'avessi ancora fatto mi ha dati altri va dentro uno dell'app tu fa male eccola ci prepariamo per l'autocrafting si tieni questi e poi c'è tu cos'è cos'è ah quello per i fluidi la prima ma che dici cosa base che serve per il creativo hai ragione hai ragione cazzo ma viene da 64 fischia se è buono vedi lì guarderai le guardie o no quello è il mio problema da 64 è vero quella sinistra devi solo ceccarla quella a destra pure ah ti dice che devi mettere il coso sopra sicuramente perché devi mettere la bag qui la santa banana il molecola ah molecola assembler ma qual è quello per farlo più presente possibile era uno sì uno no ah diceva la struttura che facevamo sì non mi ricordo mi pare che era una sì una no non mi ricordo un level emitter tra l'altro la quest del molecular assembler si chiama ikea worker of the year ah io faccio il molecular assembler voilà sì sì troviamo l'elemente che era tale sto facendo già fatto praticamente però vale delle torci dire proprio voleva oggi no non è oggi che è la norma così che è la norma normale calculator sì ecco quindi il level emitter ma no non l'avevo visto è piccolissimo è tutto te li giuro tutto ok e anche questi vanno nella cosa dell'upload and the happy and the happy and your enemy what the fuck what the fuck ah ha finito che cosa non lo capisco non lo capisco ma devo fare tutte le cose adesso vuole ma non è vero non lo capisco vuole questa il crafting copro sector unit e dati altri 4 di calculator demolego l'assembler scusami crafting co-processor unit crafting unit teoricamente ne avevamo un po' eh ma mi sa di quelli avanzati eccoli qua 4 crafting unit allora lo metto l'insieme a un engineering no problemo 22 cosa stai quale stai facendo scusami quello viola quello viola come quello viola quello in mezzo quello viola ah io faccio quello a sinistra allora così ho sbloccato quelli sotto il l'uno crafting storage l'uno k un k allora faccio il crafting monitor grazie quello cos'era quello che lo piazzavi sopra e ti il crafting monitor si quello che piazza di sopra i macchinari no quello che ti fa vedere devi mettere insieme il molecular assembler ti fa vedere cosa stanno craftando giusto 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 lo facendo tu il crafting monitor si devo fare un illuminated coso ma io l'ho completato tutti manca il biscotto che l'ho claimato io ho finito manca solo il manca la soltanto sia perché mi ha detto che ho craftato 4 wood plants wood e non so perché mi ha detto ah devo craftare un illuminated panel ah dove è il problema fatto no questo lo ho storage monitor e ti ho pd e ho il crafting monitor abbiamo finito l'applet allora ci mettiamo a fare l'autorazione è vero mi metto il biscotto ah è la v lo fa un culo hai finito mi sono botto il luce vai no anch'io devo fare tutto adesso dramatic pause what pause dramatic done toast davanti si segnali ah ma donno cose buono ho trovato un metro non tutte danno loot vabbè cominciamo da sì queste sono cose che potrebbero essere un'altra futura al block cosa sono i launch pad ah no aspetta dell'avanzo il rocky altri altri di questi per fare energia ma ti fanno uno spacchettamento incredibile non è vero quello del daniel gris ma non le danno l'ho trovato anche io che cosa l'avanzo dislocate o no altri due mani made in moss brian oh quello che dasse il touch metano veramente altri quelli vuoi la revoltella io l'ho craftata apposta so che non ho capito come si si mettono i proiettili sta caccata ma mi sto abbastando l'invento infatti le sto droppando fuori io quando avevo dieci anni ero la mamma di un launch pad via 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 4k prodotto nell'upload 4k è stata anche la torta ah wow 8 engineering 8 logic è una torta e aspetta la pentina jst è spuntata è spuntata anche la mecanism perdono parte 2 la botagna l'upload la una torta pacchettiamo un boomerang magico una tesla un avancer charger porter un basic energy input output crystal della draconi un engineering engineers tie hook a limit di speed a new form of travel quindi ho preso un rampino un altro architect saw bench gelato fire wheel enderium turbine vision control save measure coconut shrimp hardened self frame l'altro market un farmer dell'actual addiction e ho fatto una quest pure del man di moss dei palloncini verdi e un altro enderium turbine ma se lanci i palloncini qua restano non pensavo scoppiasse effettivamente allora vai un buon non compleanno a te ecco va osdiva è una festa di compleanno i palloncini in aria il magic bbb però come funziona torna in mi sa che me lo uso torna oh tiro e qua lui torna mamma Ti posso bucare col boomerang Tiro il boomerang Vaffancon come ho rotto il cazzo Non te lo devo più Tieni tieni del landerion turbine Sono proprio Del landerion turbine Questa roba Ah è un frame che servirà per Un altro market Leggiamo gli altri market Non c'è spazio Fuck No c'è spazio Poi che io vorrei fare l'autograffing L'autograffing si 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 L'autograffing si 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 L'autograffing si si Non funziona è rotto Cosa Il rampino Ma non funziona Ma scusa Non funziona Fanno di vedere che sembra quello di Bioshock Quindi E già sembra il rampino di Bioshock Andiamo Limited speed A new promo traveling Ok Ok Tutto là Tutto là Tutto là Tutto là Tutto là Sento ti dico La Tesla ce la mettiamo qua Qual è Qual è Tesla Quelle che ho messo vicino alle torrette Ah ho trovato le Tesla coil Vabbè Io l'ho fermato Chi è che ha fatto riprendere la farm del silicone Mortazzi su WhatsApp 13k De silicone Tutto 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 c'è ancora un palloncino lì non c'è più un palloncino lì un altro tape eh devo posare il gelato ah mi guarda sto ottenendo l'ho bruciato ok quindi non mi ricordo un cazzo come si faceva il autocrat si facciano quelle strutture che facciamo noi con i molecular e i monitor se non mi sbaglio e in basse diciamo a quanti dovevi fare cioè quanti crafting dovevi fare dovevi mettere tot best auto crafting setup a e2 1-1 palla al centro oh 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 your mother suck cock oh oh no 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 Sì Quindi uno deve essere un M-interface Sì, M-interface può essere totalmente circondato da Molecular Quindi abbiamo fatto Molecular, Interface, Molecular, Interface Quindi in un 2x2 c'erano due Molecular e due Interface Sì Il maggior numero di Molecular è un Interface In realtà qualche faccia rimaneva sempre fuori perché dobbiamo pure cliccarci In realtà non è vero, serve a questo il Pattern Terminal se non ricordo Abbiamo 9 Molecular Assembler e 9 Interface Già, peccato che servono più Molecular Assembler che Interface Vediamo così Questo Ma non è vero che è questo Questo no Sì Ah, per vedere il Crafting qua dentro Ah, per vedere il Crafting qua Usiamo tre facce di questo Eh sì, sono tre facce per ogni cognaccio Mi sembra diverso Mi sembra diverso da quello che facevamo noi Tutto è collegato a un Interface Però è diverso Queste qua non si collegano ad un Interface Ricordo uno sì o uno no Messi in obliquo Eh, dici così? Eh, sì Esatto, sì Mi ricordo così Sopra Sopra E poi Sopra 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 Ho capito Così a giro Non devo costruirla qui Ho capito quello che dico così, no? Ah Così 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 Facciamo così mi fa Mi sembra più familiare questo Così Comunque sia sono tre Uno sopra Uno al lato Uno davanti Comunque sia Praticamente E quattro facce usiamo da sotto Sopra Sopra Deve sempre essere collegato però all'app Quindi dobbiamo fare un coso spesso Un cavo spesso Dove facciamo passare Facciamo una stanza Creiamo una stanza per l'autografo C'ho il polso che polsa Ho fatto tutto tutto Semmelo male Sopra Il polso Sopra Femila Faba Da che è la quetta? No Uno di essi Ho soltanto uno di essi E poi li prendeva tutti in automatico no ovviamente è all'altro quello tough in realtà li sta prendendo tutti quindi basta essere collegato a uno seriamente se metto quello devi vedere tutto metto l'm qua e no non abbiamo messo nessun pattern da fare no questo è quello che si devi creare i pattern i pattern no lo puoi vedere direttamente dal crafting terminal normale però devi mettere nella categoria solo crafting no non puoi vedere i crafting c'era un pannello così ti lasciare a vedere le interface proprio tu potevi inserire da lì ricordo qual è qua nel tu con il cane avevi tutte le interface con tutti i vari pattern dentro come si chiama? penso fosse questo ah no aspetta interface interface allora forse l'm interface terminal no allora l'm interface scusami manco interface termi ok forse termi c'è il fluid il il pattern terminal che è questo qui e l'm terminal non sarà l'interface terminal non sarà l'interface terminal scusa non abbiamo l'interface terminal l'interface terminal è non è quello prima del crafting terminal ah no quello è un terminal non abbiamo l'interface terminal ce la creo subito forse è quella sì perché si fa con un un interface c'è un interface un interface ah sì dammi l'interface grazie eh sì dice che ne abbiamo 8 molecolare sempre ok questi sono tutti quelli che possiamo ziccarci dentro sono tantini perfetto lo dobbiamo fare in una stanza bella bella pulita pulita dobbiamo fare anche gli altri cosi però i i processori qua i processori certo dobbiamo fare anche la struttura con questi ah vero perché dovevano fare questi perché me lo ricordo mi ricordo che ci dovevano fare mentre era crafta veloce più di quanti hai questi o fare più più crafting alla volta in base a quanti di questi dobbiamo fare però non ti faccio quelli da un k ti faccio quelli da 64 k uno ce l'abbiamo già qua dentro però servono sempre qui guarda come li mette questi io mi ricordo allo stesso modo identico modo sono squirre grazie per rifarlo grazie con noi con noi no non serve il privato nostro mi sta mangiando l'armatura armatura ma nè allora fammi controllare intanto devo fare 64 k questo ma stavo qui ma ma che cazzo vabbè in realtà l'importante è che ci sia un co-processor unit e un processor unit e basta la forma che gli dai è irrilevante tieni qui tieni un bellissimo 64 k quanti facevano lì 1 k e poi e poi mettere anche l'uno devono essere quattro insieme per farlo vedete se glielo puoi mettere vicino a quello ovvio no no mi sa di no forza 4 per metterne più voi anche per mettere così proprio posso usare questo non serve un cazzo perché solo per vedere cosa sta craftando ho mai messo in vita nostra ovviamente posso collegarli con se ora sono online infatti ora li posso aprire vedo quanti crafting può fare 18 craft insieme voglio gestire 18 craft ah era per farli insieme quelli quindi è ho capito ora mi ricordo che servivano vabbè allora 18 craft insieme non credo che li faccia oddio per una cosa un po' più complessa secondo me sì però vabbè in teoria non è che il crafting è crafting roba ti fa vedere tutti gli oggetti che sto utilizzando in queste caselle non erai crafting che stavo facendo per fare un singolo crafting eh sì ti fa vedere tutti gli oggetti che stavo usando quando li stavo usando quindi se ne bisogna fare un po' sì quindi facciavamo non mi considera un 2 2x2x1 o un 2x2x2 un 2x2x1 l'importante debba essere avere uno storage e un caprassorioni ovviamente 2x2x2x1 la x sono sbagli perché credo un 64k gli basti comunque tanto spazio quindi secondo me adesso possiamo fare 4 64k e 4 che ho preso io 64k sono comunque belli fastidiosi da fare c'è il chip già pronto posso fare il secondo e lasciarne due per adesso ho già detto che hai fatto il chip in più ieri c'è la chest c'è 64k ok sì è vero c'era anche 2k 2 4k ma che cavolo allora come si fa il coprosessor che faccio un altro coprosessor intanto coprosessor o quello di diamanti sì venite crafting unit no problem temi qua un altro 64k praticamente così questo qua facevamo praticamente sono 27 1k per fare un 64k 4k questo qui è un autocrafting è vero che dobbiamo metterci anche le varie card per la velocità dentro ogni molecola rassembler così era più veloce trovo tutto perché no perché non dovrei farlo cacchio mi manca il fudge quartz lo fai il quartz glass ve l'ho fatto io perfetto non mi ricordavo che era così facile da fare oh my glowstone vado a prendere la glowstone ora è difficile prendere la glowstone come ore effettivamente molto complica porca di quella fatto danno fratelli non è possibile fatto danno fratelli l'unica cosa che dovremmo fare con le api secondo me per forza è la glowstone appunto perché non c'è altro modo per farlo sono sopra le nuvole e ancora prende raggio incredibile a 163 di altezza e ancora prende il raggio è di 200 e qualcosa davvero pare di sì infatti uno a 212 blocchi ancora funziona la troia ragazzi che storia che vi prendo così tanto 70 close che ve lo studo questo minchia di nether ci sono i crafti dei crafter tier 3 qua sotto così ah sotto i call block perché non sapevo dove metterli ho messo lì e che be giusto che be giusto che be giusto che bello che bello io con il dragonic dislocator io posso andare tra i mondi senza dover passare da mhm quel portali cosp! pom 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 boom intendo intendo che a questo mondo eccoli qua 264k ora mi manca soltanto il crafting unit no dimmi cosa manca quelli di oro anyway non è possibile comunque ogni volta che uno va nel nether è invisibile oh è se lo vuoi ho mangiato pesante cazzo abbiamo finito con i diamante raffiatur no abbiamo finito i calculatum e si fanno con il pure il pure si fa l'enrichment alloy si ma comunque con il certo squartz io stia rientrando ti vedo insomma quando ti ci vuole oh ma col cazzo proprio beh ora esco rientro io hai fatto altri due si aspetto che sto finendo io di farli mi urlano no 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 io Grazie a tutti. 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 Tanto per riempire un altro pull chunk. Giustamente. Io lo devo fare più a destra per andare in un altro chunk. C'è un pesatore, meglio andrò nell'altro chunk. In realtà siamo in mezzo a tre chunk, sono il loro domano, o quattro. Fammi vedere come si fa la visualizzazione di un'altra parte. F3 G, guarda, 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 io già qui vado a 96 FPS dai 100 e passa che andavo. Io per andare meglio dovrei fare... Io per andare meglio dovrei fare... togliere dei chunk di visualizzazione, sono a 16. Io mi faccio dove guarda, se continuo a guardare i processori unit vado sui 70, se non li guardo vado a 100. Vado a fare, visto che abbiamo il fatto che possiamo portare l'upload. Facciamo sotto il circoletto e da un'altra parte questi due. Quanto lontani li vuoi fare dall'upload per il quale? Bene, diciamo, sempre sotto, no? Sotto qui. Lo facciamo un po' più distante, questo sotto. Facciamo un po' più in là. Dici che è un cavo? Cioè, devo scavare tanto verso di là. Te la sarebbe... Eh, dove stai guardando? Eh, dove stai guardando? Di qua. Di là. Si chiamano di sotto, ma di là. Mi fido, mi fido, eh. La fregna. Di mamma, da. Oh, di qua. Ora sì. Porca droga, ho trovato una caverna. Ma lo sapevamo. Ma il gaspio. Svevamo che c'era questo rischio. Questo rischio c'è. Vabbè, noi creiamo una struttura qua. Ma lo vuole? Ma lo vuole? Questa è già, ragazzo. Lo creiamo qui, dai. Facciamo l'impalcatura qui. Facciamo un po' di stone e lo mettiamo a fare. Sembra strano, ma ho perso il buco gigante che hai fatto. Qui, qui, qui. Segui il suono e la voce della mia voce. Non mi hai servito a qualcosa. L'ho trovato. Trevisano, che hai detto? Non mi hai servito a qualcosa, ho detto. Ah, ho capito Trevisano. Prova a muoverti come faccio io gli scogliettori. Devantalo. Dobbiamo prendere tanta stone e creare una struttura. Struttura di piccolo. No, facciamo lì. Dobbiamo fare un dove camminare, no? Dove continuare il buco o vuoi... Però la struttura dentro il canyon. Può fare la struttura dentro il canyon. Scomodità incredibile. Allora, chiudiamo la parete qui e lo ampliamo verso destra e sinistra. Ciao a quello. Levati, 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 levati. Dove? Non vedo dove cazzo sei. Facciamo qui. Si vede niente da da live qua. Come cazzo è possibile? Come in bright, sì. Sì, no. Niente. Ma ti mi sei messo la Night Vision? Nella testa? No, non l'ho mai messo la Night Vision nella testa. E mettiti la Night Vision, ti cambia la storia, no? Beh. Beh, beh. Effettivamente, ora ci vedo. E da una vita che c'ho la Night Vision. Io no. Per questo io non illumino da sua parte. Io vedo dappertutto. Funziona su tutto, perdona, il prosciutto. Mi fa cadare gli FPS fortissimo. Io no. Oh, oh. 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 Ho spawnato un blitz e un creeper Dove? Nel tunnel No, è blitz e non lo uccidere Devo fare una cosa Lo saluto Aspetta un attimo che mi crea una cosa E lo devo catturare E come si chiamava la mob capture? Il blitz è mio Parliamone Scomparso Faccio questo Esci e rientra Prova a muoverti come Faccio io Ma poi dopo ti vedrà anche Entrare nell'edere in fior Ormai Ciò che è fatto è fatto Oh quanto ci sta a staccarsi Un botto C'è anche un botto a rientrare Oh ma c'era il carbone L'ho minato il carbone Lo facciamo ora Che lo facciamo scendere O Mi vedi ora? Aspetta Oh che bello Ora scendiamo per sotto O andiamo per sopra? Sopra non c'è tanto spazio In realtà Mi andare sotto Ok Però guarda Già qua c'è C'è la terra E che dove c'è la mia botania Qua sotto Qua sopra anzi Qua sopra c'è la bodegna Fammi fare intanto il confine qui Vai fai Qua sopra Mark Aspio Devi rientrare Fu qui da fuori Ah no no Non c'è bisogno Eccomi Grazie a tutti Oh no, però devi fare tu quella striscia lì, sennò distruggo troppo. Oh, anche quella striscia, che falle. Oh, ti piace quanto è profondo? Da voi. Ampiamo anche le pareti di questo, ok? Ma porca t... Mar caspio! Ah, anche già, pensavo di rimanere solo questa stanzina e basta. Oh, ho trovato tutto. Mannaggia, il telefono è arrivato a 100. Mar caspio! C'è una bella stanzona. E ci siamo. Più grande di quella dell'uplied. E lì è per sostare. Se hai individuato di sosta, ti metti lì 5 secondi. Perché non trovi il parcheggio. Ma uscite questo gruppo di red. Grazie a tutti. 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 Giallo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. per terra. Grazie a tutti. Fatto. Grazie a tutti. No ma dobbiamo far cadere un cavo adesso Farà male Con la battuta tipica tua Mi è caduta la spalena Che tipica mia Eh? Dobbiamo fare un buco Che devi fare? Devo far scendere il cavo no? Eh si Fai scendere quello toff Lo Come cazzo dice Grosse insomma Ma dance, si chiama dance Dance, dance till you're dead Io lo faccio scendere Aspetta ti faccio un buco Un buco attacco dentro al muro Con me lo appoggiamo al muro e non si vede niente Attaccato al muro hai detto Attaccato al muro o qui? Sì qua davanti Aspetta Ti va? Ti va bene? Sì Qua ci attacchiamo Stacchiamo Poi avanti si vede Allora devo portarlo per forza uno più giù Perché sennò sopra si vede Questo qua è il nostro pavimento Quindi deve essere così Il nostro pavimento Volevo farlo Lo vuoi fare da quest'altra parte O lo facciamo semplicemente Un po' più in là Un po' più in qua Che cosa? L'autocrafting Lo vuoi fare lì in fondo? O Io direi di farlo lì in fondo E poi mettiamo i macchinari Sempre più avanti Io volevo metterli qua I manipulare Molecular Cazzo in giulo Ah ok I macchinari Li metti dove Ah una moneta Una volta che hanno rubato la carta d'identità Questo sito non è sicuro Lo sito è tutta una montatura Sì tecnicamente ci va quello lì però Facciamo questo E poi chiudiamo Sono già le 5 Ah ma proprio volante Ma per me fai l'attaccare a terra Eh ho capito Manca un pezzo Ma ci mancano 3 peccettini Eh li facciamo Manca un interface E due molecula Eh fai Io faccio Il molecula E tu fai l'interface Ma che cazzo dico Manca un molecula E E due Interface Eh allora Facciamolo dai Bene Io faccio le due interface Faccio il molecula M Interfaccia Oh mamma è zoccola Scusami un attimo Fuck 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 Devo fare il coso Flux Ma che è sempre il flux crystal Bolverizzato Eh ma porca troia Me l'ha rubato lui Pim 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 Mettimi flux crystal Allora Pistol ci sono già Ho fatto la colla polverizzato Ma Mi ha fottuto la L'ho fottuto da adesso Non sto facendo niente Ho fatto Eh sì Ma una volta mi hai fottuto Quella a sinistra Che mi mancava Una volta quella a destra Quella a sinistra L'ho fatto Perché mancava a me Anche Come è possibile Quella a sinistra Non c'era L'urida Era quello a destra Quella sinistra L'ho appena fatto L'urida Vado a mettere Blu 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 Via via Blu 1 e 2 Ora tocco a terra Oh Devi mettergli vicino Gli altri Li metto a destra O a sinistra Mettili a sinistra A destra Compriebbero questo Dovrebbe un po' fastidio Battutone Riesci Un blocco di spessore Che va in giù O faccio doppio No Fallo doppio Così è La stessa grandezza Del molecular Dentro la faccio così Ebbe funzionato Online Esatto Perfetto Autografting Ah Detto questo Non vuoi mettergli una ricetta Almeno Così Ti metto la ricerca Degli stecchini Vai Anche se ne abbiamo 501 Dov'è eccolo qua Blank partner Col Metti anche quella Del wood Allora Da bene due Abbiamo 18 milioni Di quelle Due stache Passa C'è andate Non ti ho detto Ho 10 alluminium ore 13 tin ore E un coppe ore Basta metterli qui Si mettono automaticamente Quindi se io gli do Che ne so Soltanto crafting E mi deve craftare Uno stecchino Facciamo tre Te ne farà quattro Facciamo quattro Start Ma già fatto Ho visto scattare Da 5 scettura 5 scettura Bravi tutti Ora vado a mettere Nella quinta Obbligazione Questi tre ore Melt in Quello alluminio Poi il copper Reficenti Però non vedo Quanto è notte Ma è ok Non lo vedi Quando è notte Basta Alzare L'occhio al cielo E vedi una patina Che dovrebbe essere Scuro Ma in realtà È celeste Mi sta sparando Ma è duro Vabbè Non sa lume